All'interno della mostra ci sono anche altre esposizioni di uccellini esotici, canarini, canarini diverse mutazioni, quaglie cinesi, parrocchetti ondulati, le cocorite, i diamantini, sotto ci sono i diamantini, uccellini piccole dimensioni e le classiche tortore. Le bianche e quelle dal collare. Questo qua è un parrocchetto dal collare, una bella coppia di parrocchetto dal collare verde. Questi due sono altri due diamantini, molto molto belli pure. Qua abbiamo altri due esemplari di diamantino mascherato e i diamanti di Gould, molto caratteristici per il loro colore, molto belli. E diverse tipologie di uccellini esotici. Lo stand prevede anche queste razze.